Musica Provincia di Salerno, Maretta in consiglio provinciale, il PD attacca l'operato del presidente Canfora l'intervento del coordinatore territoriale Domenico Cartolano Sanità, cambio piano ospedaliero, 200 posti per l'ASL di Salerno Coda con sballo di Diano, i musiterreni agricoli, preoccupazione per i cittadini di Sala Consilina Sassano, martedì 6 gennaio, la festa dei ragazzi dell'associazione Attivamente di Silla di Sassano consegna ai bambini dei giocattoli Sport, calcio, gli appuntamenti delle valdianesi in campo nel fine settimana Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News in primo piano la politica e a pochi mesi dall'insediamento di Giuseppe Canfora alla presidenza della provincia che arrivano già i primi malumori e i primi attacchi questi arrivano proprio all'interno del partito democratico dal consigliere provinciale stanziola ed imparato i quali hanno attaccato l'operato e le modalità decisionali del presidente d'un attacco al presidente della provincia Canfora anche dall'onorevole Valiante A pochi mesi dall'elezione del nuovo consiglio provinciale che ha visto come presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora si avverte aria di maretta all'interno della maggioranza ed in particolare proprio con i consiglieri del PD A causare la prima spaccatura all'interno del partito democratico in segno al consiglio provinciale è stata la decisione assunta dal presidente Canfora in merito alla questione Coris A4 e Yale con la proroga di un anno concessa alla società Yale e la revoca dell'incarico al commissario liquidatore del Coris A4 Giuseppe Vitale con la conseguente nomina andata ad Amedico Montera una scelta che non sembra essere andata giù ai consiglieri provinciali Carmelo Stanziola, sindaco di Centola Palinuro e Paolo Imparato, sindaco di Padula che si sono immediatamente scagliati contro il presidente Canfora non soltanto per la decisione ma anche per le modalità in cui è stata attuata Il sindaco Imparato in particolare ha sottolineato come il presidente abbia agito senza consultarsi con i rappresentanti in seno alla provincia dei territori riferendosi proprio a se stesso e al sindaco di Centola essendo gli esponenti eletti in provincia e chiamati a tutelare le sorti della parte sud della provincia di Salerno Inoltre Imparato critica anche i tempi della decisione giunta dopo la conclusione di un consiglio provinciale e senza che l'argomento sia stato anche soltanto accennato Sull'operato del presidente della provincia è intervenuto anche un altro esponente politico dello stesso partito democratico, Simone Valiante che definisce l'operato una speculazione rozza e di basso profilo ai suoi danni L'onorevole Valiante sembra non abbia gradito il nome del nuovo commissario liquidatore così come non ha accettato la permanenza in vita per un altro anno della società Yale su cui interviene in modo molto duro definendolo una società che nel corso degli anni ha prodotto solo clientele Sulla maretta che si sta consumando in queste ore in consiglio provinciale interviene anche l'ex presidente della provincia Antonio Iannone che tira in ballo addirittura il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca dichiarando si tratta dell'ennesima decisione partitoria sotto dettatura politica del sindaco di Salerno Intanto i consiglieri di maggioranza stanziola Imparato chiedono maggiori garanzie e maggiore trasparenza da parte dell'ente provinciale In tal senso è stato fissato un confronto sulla vicenda per il prossimo mercoledì 7 gennaio nel corso del quale i consiglieri provinciali presenteranno le loro proposte Imparato però sottolinea come qualora non vengano rispettate e accettate le loro richieste a tutela dei territori dell'area sud della provincia sarà difficile che la crisi possa rientrare Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore territoriale Domenico Cartolano che ascoltiamo in questa intervista Sulla vicenda dell'OIEL e quindi su questa nomina io non mi sento di dare torto ai consiglieri provinciali che rappresentano il sud della provincia di Salerno è un consorzio che riguarda una parte del territorio il presidente Canvora è vero che lui ha tutte le competenze ma deve anche capire che i consiglieri provinciali non vanno lì a riscaldare la sedia i consiglieri provinciali vanno sentiti il partito va sentito, va coordinato noi come siamo contro al Napoli centrismo si è contro anche al Salerno centrismo De Luca, sindaco perfetto il candidato alla regione Massimo Sostegno perché è il sindaco di Salerno il nostro capoluogo ma la provincia di Salerno non è Salerno città allora i consiglieri Stanziola e Imparato hanno sollevato un problema di confronto di rappresentatività perché il presidente della provincia, il dottore Canvora non ha ascoltato il partito i consiglieri provinciali prima di fare la nomina sull'Iele in questo Corisa 4, nel consorzio che è un consorzio che riguarda Agropoli, Varie Locani un territorio che ha una rappresentatività quindi non bisogna calpestare le rappresentatività questo non significa che il partito è allo sfascio questo non significa che sarà crisi in provincia nel partito democratico esiste il confronto l'onorevole Valiante ha sollevato un problema di territorio Simone Valiante è un parlamentare che va rispettato e se il presidente della provincia avesse quantomeno alzato il telefono e sentito il consigliere, l'onorevole è un onorevole della Repubblica quindi è giusto, è opportuno è giusto ed è istituzionalmente corretto sentire il parlamentare del territorio questo non è stato fatto io sono convinto che faremo un incontro io sentirò da qui a breve il segretario provinciale perché chiaramente la provincia è un organismo nuovo si vota con un sistema nuovo c'è rappresentatività diverse quindi diamo anche una giustificazione al presidente Cambora che deve tra virgolette ancora capire i meccanismi dell'ente provincia e quindi noi lo aiuteremo affinché lo capisca presto e quindi per evitare queste discussioni ma ribadisco il partito democratico è compatto unito va avanti con grande merito perché sta dimostrando di sapere amministrare la provincia di Salerno l'ho fatto un esempio poco prima avuto riguardo all'emergenza neve però è un partito che non come dire non siamo non leggiamo un unico libro siamo è una siamo più persone più meni che alcune volte dal confronto si esagera perché si esagera ma noi siamo pronti a confrondarci passiamo alla cronaca nella giornata di ieri al termine di una rapida indagine i militari della compagnia di carabinieri di Sala Considina hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 22 anni di nazionalità marocchina che lo scorso 1 gennaio aveva provocato un incidente sulla statale 39 ed era si era dato poi alla fuga il ragazzo è stato identificato dai militari della stazione di Teggiano è stato trovato privo della patente in quanto mai conseguita e alla guida di una vettura al momento dell'incidente priva della copertura assicurativa e della revisione il mezzo è stato quindi sequestrato per la successiva confisca inoltre sono state elevate contravvenzioni per una cifra vicina ai 1000 euro e voltiamo pagina questa mattina a Sant'Arsenio l'onorevole Donato Pica ha tenuto il consueto incontro con la stampa per tracciare un bilancio della sua attività dell'anno 2014 ma anche ha parlato dei progetti per il 2015 e infine ha detto la sua sulla questione del distretto sanitario lo ascoltiamo in questa intervista noi ce l'auguriamo anche se per la verità l'anno 2014 si è contraddistinto per una serie di negatività e di penalizzazioni che hanno mortificato il territorio a partire dalla soppressione del tribunale per passare poi al ridimensionamento di una serie di servizi pubblici di prioritaria importanza per i cittadini io ho messo più volte in evidenza questa tendenza di nuova centralizzazione cioè sostanzialmente di un modello di Stato che tende ad accentrare in se stesso le decisioni e nel contempo mortifica e riduce l'erogazione di servizi pubblici ai quali però il cittadino ha diritto non fosse altro perché è un contribuente e questa anomalia si sta verificando soprattutto per le aree interne più lontane dalle grosse concentrazioni urbane per questo motivo noi stiamo anche lavorando ad un'ipotesi che per il momento ha una sua concretezza cioè l'individuazione del Vallo di Viano come area pilota nel contesto della programmazione dei fondi europei 2014-2020 individuazione dell'area pilota significa avere una corsia privilegiata nella concessione appunto dei finanziamenti che non riguarderanno e non dovranno riguardare solo le singole iniziative ma essere piuttosto rivolte all'efficientamento all'ottimizzazione dei servizi quindi sanità servizi sociali scuole trasporti ambienti in maniera tale che il comprensorio potrà finalmente definire la sua strategia complessiva che è votata alla valorizzazione del turismo delle bellezze ambientali e naturali all'enogastronomia e ai prodotti tipici questo è il modello che deriva tra l'altro dal piano territoriale regionale noi insisteremo in particolare su questo punto tenendo ben presente che la polverizzazione degli interventi è fine a se stesso e non produce dei risultati apprezzabili bisogna invece vincolare la concessione delle risorse pubbliche alla individuazione di obiettivi che siano in grado di produrre reddito ricchezze e occupazione questa è l'unica strada che può dare come dire una prospettiva e una speranza soprattutto ai tanti giovani che sono costretti ad emigrare per potersi collocare utilmente nel mondo del lavoro su questo mi auguro che ci sia una convergenza unanime da parte delle istituzioni da parte degli operatori privati insomma di tutto ciò che costituisce il contesto sociale economico e produttivo di riferimento e su questi obiettivi lavoreremo anche in previsione della nuova scadenza elettorale regionale la mia opinione è stata sempre molto chiara oserei dire in controtendenza io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che la struttura ex ospedale di San D'Arsenio è nata storicamente con una vocazione sanitaria e tale deve essere la sua destinazione futura piuttosto io penserei ad un tavolo di confronti di concertazione tra i sindaci abbandonando e mettendo da parte le polemiche e puntando invece ad una proposta razionale di riorganizzazione dei servizi sanitari sia all'interno dell'ospedale che sui territori soprattutto in previsione del fatto che la regione Campania o meglio la struttura commissariale si appresta a modificare il decreto 49 del 2010 quale migliore occasione per dare più centralità all'ospedale di Polla soprattutto nel campo dell'urgenza e dell'emergenza e magari individuare per San D'Arsenio altri tipi di interventi che potrebbero per esempio essere l'ospedale di comunità la valorizzazione dell'oncologia e delle cure palliative una partecipazione al protocollo di intesa che è stato stipulato recentemente dalla regione Campania con l'INAIL per la creazione di una struttura dedicata alla riabilitazione insomma ci sono tante occasioni e tante possibilità che ripeto con spirito costruttivo bisogna cercare di perseguire è in atto la revisione del decreto 49 del 2010 che dovrebbe ridare alla sanità salernitana lo stesso numero di posti letto che aveva ante la riforma del decreto del 2010 è notizia di questi giorni che dovrà essere poi passata al vaglio dell'Agenzia Nazionale della Sanità l'ospedale di Polla però dovrebbe perdere altri 28 posti letto mentre ne guadagnerebbe due l'ospedale di Sapri non dovrebbe invece riaprire l'ospedale di Agropoli e per il sindaco della città cilentana Franco Alfieri si tratta di una rappresaglia politica nei confronti del territorio non c'è ancora nulla di ufficiale l'atto aziendale dell'asla di Salerno non è stato ancora approvato perché in fase di revisione il decreto 49 del 2010 così ha dichiarato il direttore generale Antonio Squillante nella conferenza di fine anno tuttavia lo stesso Squillante parlando del futuro dell'azienda ospedaliera salernitana ha annunciato che Salerno sarà trattata meglio con un aumento dei posti letto e che alcune posizioni saranno riviste per evitare conflitti sociali in questo momento si sta procedendo ad una revisione del piano regionale del riassetto ospedaliero e della rete di emergenza che dovrà essere poi posta al vaglio dell'Agenzia Nazionale della Sanità tra le maggiori novità previste ci sarebbe l'aumento dei posti letto che si registrerà sia nell'azienda sanitaria che ospedaliera con una maggiore concentrazione nei nosocomi dell'Asl se con il decreto 49 del 2010 si era scesi da 2936 posti letto a 2712 dopo la revisione si dovrebbe tornare alla situazione antidecreto con circa 3000 posti letto dovrebbero riaprire diversi presidi ospedalieri e in particolare a sud della provincia di Salerno le strutture ospedaliere della Valle del Sele Oliveto Citra Battipaglia Eboli e Roccadaspide recupererebbero 100 posti mentre l'ospedale di Polla ne perderebbe 28 passando da 228 a 200 e infine l'ospedale di Sapri passerebbe a 120 dai 118 resterà invece chiuso l'ospedale di Agropoli e il sindaco Franco Alfieri dopo aver saputo che il nosocomio della città cilentana non sarà riaperto mentre a Scafati l'ospedale riprenderà a funzionare ha parlato di rappresaglia politica nei confronti del territorio e ha tenuto a confermare che la chiusura dell'ospedale di Agropoli rappresenta un mero fatto politico e non è in alcun modo legato alla riorganizzazione sanitaria della territorio con questo provvedimento ha aggiunto Alfieri si colpiscono decine di migliaia di persone rimaste prive di un presidio sanitario la New Lat di Reggio Emilia che ha acquistato la centrale del latte di Salerno è pronta ad investire ben 5 milioni di euro per il rilancio dello stabilimento finalmente arrivano buone notizie quindi per i lavoratori e per loro si respira aria di serenità e di fiducia primo giorno di lavoro oggi alla guida della centrale del latte di Salerno per Angelo Mastrolia il patron della New Lat che ha acquistato il 100% delle azioni della storica municipalizzata di Salerno per una cifra pari a 12,7 milioni di euro a giugno scorso Mastrolia fu l'unico a presentare un'offerta per la società in via di privatizzazione che fattura 19 milioni e mezzo di euro e occupa 58 addetti primo incontro con i dipendenti e la RSU presso la sede di via Monticelli nel corso della riunione il nuovo proprietario della centrale del latte che ha confermato alla direzione generale l'attuale manager Giorgio Criscuolo ha voluto rassicurare i lavoratori cui i livelli occupazionali secondo il bando di vendita dovranno essere garantiti per i prossimi tre anni Mastrolia ha annunciato strategie di sviluppo e ambizioni di ampliamento per l'ex municipalizzata ne faremo il perno in campagna della NULAT ha detto Mastrolia rivolgendosi ai lavoratori con i quali il 9 gennaio è già in programma un incontro per discutere del rinnovo del contratto ottimi propositi ha subito commentato Ciro Marino della FAICISL tra i firmatari del ricorso con il quale si era tentato di bloccare la cessione ai privati della centrale del latte di Salerno ricorso poi respinto dal TAR da Mastrolia attendiamo un piano industriale preciso e dettagliato che non è mai arrivato neanche per la NULAT dice il sindacalista pare che l'orizzonte giurisprudenzionale ci sia ora un'impugnativa al Consiglio di Stato ma intanto si procede a perfezionare la compravendita sulla sorte dei lavoratori timorosi di eventuali tagli a pronunciarsi è stato lo stesso Mastrolia al momento ha detto anche nel corso dell'incontro di oggi non esistono ragioni per ipotizzare un ridimunzionamento anzi il gruppo avrebbe tutta l'intenzione di puntare sullo sviluppo delle aree di business dell'azienda a domanda precisa sulla necessità di prevedere ulteriori spazi per incrementare la produzione Mastrolia ha fatto riferimento a strutture presenti in un raggio di 20 chilometri dall'attuale stabilimento industriale di Salerno il pensiero di molti è andato allo stabilimento pezzullo di Eboli secondo un articolo di qualche giorno fa del sole 24 ore nel medio termine sul rilancio dello stabilimento campano della Nulat si stimano investimenti per 5 milioni il piano industriale presentato a giugno prevede da un lato un processo di innovazione tecnologica con investimenti per un milione e mezzo di euro dall'altro un progetto di valorizzazione della filiera a chilometro zero che fa leva sul concetto di web farm le busse del latte della centrale tramite un codice saranno riconducibili all'azienda agricola fornitrice visitabile online grazie a una webcam Il Codacons Vallo di Diano tramite una nota stampa esprime tutta la sua preoccupazione in merito alla possibile pagamento dell'Imu sui terreni agricoli per i cittadini di Sala Consilina il provvedimento del governo infatti rende esenti dal pagamento dell'Imu tutti i cittadini dei comuni la cui altitudine supera i 600 metri a Sala Consilina la concessione dell'ex sede comunale in piazza Umberto I all'Inps e all'Ine e lo spostamento della sede ufficiale in via Mezzacapo potrebbe di fatti cambiare questo parametro e potrebbe portare al pagamento dell'Imu ai contribuenti con una nota stampa il Codacons Vallo di Diano esprime la propria preoccupazione per i cittadini di Sala Consilina in merito alla questione Imu sui terreni agricoli sulla base delle tabelle Istat pubblicate sul web si legge nella nota i cittadini del comune di Sala Consilina dovrebbero godere dell'essenzione totale al pagamento dell'Imu sui terreni agricoli in scadenza il prossimo 26 gennaio con un provvedimento del governo infatti è previsto che il pagamento sarà dovuto da tutti i proprietari nei comuni con altitudine fino a 280 metri mentre nei 2544 comuni compresi fra i 281 e i 600 metri saranno esenti solo i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali completamente esenti dal pagamento dell'Imu agricola solo i cittadini dei comuni in cui le altitudini al centro è superiore ai 600 metri il Tar del Lazio intanto sul ricorso delle regioni Abruzzo Liguria Umbria Veneto si esprimerà sulla sospensiva del provvedimento del governo solo 5 giorni prima della scadenza ossia il 21 gennaio in attesa del 21 ci stiamo preoccupando non poco fanno sapere dal Codacons innanzitutto diciamo che la altitudine al centro del comune è calcolata in corrispondenza alla posizione della casa comunale nella tabella Istat attuale il comune di Sala Consilina è posto a 614 metri sul livello del mare buone notizie pertanto per i contribuenti dei residenti della cittadina capofila del Vallo di Diano eppure l'altra parzialmente buona notizia della permanenza dei presidi Inps e Inail tutti concentrati nella vecchia sede comunale in piazza Umberto I a 614 metri sul livello del mare appunto ci induce a due amare riflessioni la prima è che i locali del vecchio municipio sono stati ceduti in comodato d'uso gratuito agli enti come se la cassa comunale fosse pingue la seconda è che con l'ufficializzazione della cessione tutti i locali sarà un po' più difficile per gli amministratori sostenere che l'attuale casa comunale essita la stessa all'attitudine della precedente cosicché se il dislivello misurato dagli accurati strumenti odierni dovesse far rilevare un valore superiore a 14 metri il rischio è che si materializzerà l'imu agricola anche per una piccola fetta di contribuenti salesi la nostra proposta concreta aggiunge la nota allora è sempre la stessa di quella di alcuni anni fa non uno stratagemma ma un'esigenza sociale concreta che trova un'ulteriore ragione d'essere qui e adesso non si abbandoni piazza Umberto I come già fatto purtroppo in modo ufficiale cedendo tutti i locali dell'ex municipio alle sedi IMS e INAIL si portino invece alcuni uffici di rappresentanza e la sede ufficiale del comune con atto amministrativo d'urgenza in piazza Umberto I salendo da via mezza capo numero 44 fino a 614 metri sul livello del mare all'IMS e all'INAIL si trovi una collocazione alternativa che potrebbe bene essere uno spazio equivalente nell'attuale sede municipale rinegoziando opportunamente la convenzione stipulata il nostro fondato sospetto infatti è che il dislivello tra le due sedi quella attuale in via mezza capo e quella originaria in piazza Umberto I sia maggiore di 14 metri con questo servizio si chiude la prima parte ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte del nostro notiziario seconda parte della nostra informazione e partiamo con una notizia sugli eventi tutto pronto per la festa in programma a Sassano presso la palestra delle scuole elementari di fronte alla casa comunale organizzati dai ragazzi del gruppo giovani dell'associazione attivamente Onlus di Silla per distribuire i giocattoli raccolti ai bambini indigenti del territorio la festa avrà inizio alle ore 15 per concludersi alle ore 22 grande impegno e volontà da parte dei ragazzi del gruppo giovani attivamente di Silla di Sassano che nel corso dell'ultimo mese di dicembre hanno raccolto con passione un gran numero di giocattoli da donare ai bambini indigenti del Vallo di Diano per cercare di rendere speciale queste festività natalizie il gruppo costituito lo scorso mese di novembre si è già attivato con iniziative volte al sociale dopo la raccolta di alimenti per il banco alimentare da destinare alle famiglie povere anche per le festività natalizie i bisognosi sono stato al centro dei pensieri dei giovani i numerosi giocattoli raccolti grazie anche alla generosità di tantissime persone che hanno accolto e appoggiato l'iniziativa dei ragazzi saranno consegnati martedì 6 gennaio giorno dell'epifania nel corso di una grande festa che prenderà il via dal primo pomeriggio per proseguire fino a tarda sera presso la palestra delle scuole elementari di Sassano di fronte alla casa comunale dove ad attendere le famiglie e i bambini ci saranno i ragazzi del gruppo giovani attivamente con tanta musica confiabili e un buffet allestito per l'occasione i giovani invitano tutta la cittadinanza a partecipare anche per un momento di vera gioia serenità amicizia e divertimento non soltanto per i bambini ma anche per gli adulti e per iniziare in allegria questo nuovo anno 2015 noi del gruppo giovani ci siamo impegnati nella raccolta dei giocattoli che si è svolta nelle principali piazze del Vallo di Diano e abbiamo avuto anche l'aiuto di alcune persone che ci hanno donato i giocattoli diciamo questa raccolta si concluderà il 6 gennaio dove abbiamo organizzato una festa proprio per questi bambini la festa si svolgerà presso la palestra delle scuole elementari di fronte al comune dalle ore 15 alle ore 22 la festa si svolgerà con confiabili ci sarà la musica e abbiamo preparato anche un piccolo buffet diciamo per accogliere le persone che parteciperanno a questa festa dobbiamo ringraziare anche gli sponsor che ci hanno dato una mano proprio per realizzare questo evento restando in tema di eventi anche quest'anno arriva l'Epifania 2015 nella parrocchia di San Pietro Apostolo a San Pietro Altanagro sotto l'attenta regia del parroco Don Francesco Maltempo è stata organizzata la quindicesima rassegna dei cori polifonici e quest'anno la chiesa madre di San Pietro Apostolo alle ore 17.30 ospiterà ben sei dei migliori cori del nostro territorio e anche un coro proveniente dalla città di Salerno oltre ai cori si esiberanno anche tre voci soliste a completare la serata inoltre a cura della proloquo e dell'assessorato alla cultura del comune di San Pietro Altanagro si terrà il consueto saluto di inizio anno ai genitori e ai bambini residenti nel comune di San Pietro Altanagro e nati nel 2014 l'evento vuole anche sollecitare la riflessione in quanto è proprio nella comunità e prima ancora nella famiglia che nascono le basi che regolano i rapporti tra i cittadini che daranno vita e sostegno ai valori dell'intera società presente all'evento anche il vescovo Monsignor Antonio De Luca a cui sarà demandato il saluto ai bambini nati nel 2014 e che contribuiranno ad arricchire il piccolo paese del Vallo di Diano e sempre in tema di eventi torna quest'anno a Monte San Giacomo l'atteso di appuntamento con il teatro con la rassegna teatrale teatro in Casa Marone promosso dall'associazione Terenzio Castella in collaborazione con l'amministrazione comunale il primo appuntamento è previsto per domani domenica 4 gennaio presso Palazzo Marone alle ore 19 torna da domani sera l'appuntamento con teatro a Casa Marone rassegna teatrale che da diversi anni raccoglie presso Palazzo Marone a Monte San Giacomo numerose compagnie teatrali in particolare del territorio la Kermess rientra tra gli appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto dallo spettacolo teatrale allo spettacolo naturale che ha preso avvio l'estate scorsa grazie ai contributi della misura 313 del PSR Campania 2007-2013 grazie all'impegno dell'associazione Terenzio Castella in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata da Raffaele Accetta nel corso dei prossimi due mesi fine settimana saranno allietati da spettacoli di grande spessore portati in scena dalle compagnie teatrali del Vallo di Diano si partirà domani domenica 4 gennaio alle ore 19 con la rappresentazione Uscarugnato scritta da Peppino Amabile e portata in scena dalla compagnia di Sant'Arsenio ieri, oggi e domani si proseguirà poi domenica 11 gennaio con la compagnia Tempo e Memoria di Polla con Farmacia di Turno di Edoardo De Filippo domenica 18 gennaio si esibirà il gruppo teatrale Pasquale Petrizzo di Sassano con Mun Estate Monno I di Antonietta Spolzino domenica 25 gennaio toccherà ai ragazzi di San Rocco di Sala Consilina che insceneranno Benvenuti a Teatro di Abbatechechile e Ciociola domenica 1 febbraio la compagnia Samarcanda di Battipaglia presenterà l'Odisse A di Capano e Giannarelli domenica 8 febbraio il gruppo teatro di Edoardo di Sala Consilina metterà in scena Prendo in prestito Tua moglie di Luca Franco e ancora domenica 15 febbraio i teatristi di Casa al Buono si esibiranno in Il medico di famiglia Casa e Putea di Teresa Masullo domenica 22 febbraio toccherà invece agli amici del teatro di Lauria con Minchia signor tenente di Antonio Grosso domenica 1 marzo gli amici del teatro di Monte San Giacomo rappresenteranno Made in Italy di Michele Calandriello ed infine sabato 7 marzo si chiuderà con le esibizioni teatrali della compagnia Terenzio Castella di Monte San Giacomo La serata conclusiva della rassegna teatro in Casa Marone è fissata per domenica 8 dicembre nel corso del quale si terrà la cerimonia di premiazione delle compagnie partecipanti continuano gli appuntamenti di luce è organizzato dall'associazione culturale e musicale Città Vallo di Diano in collaborazione con la Banca Montepruno il centro revisione Città Vallo di Diano e Onda News ottenendo anche il patrocinio del comune di Teggiano e del parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Chiuse dalla pagina degli eventi apriamo la pagina sportiva iniziano oggi riprende oggi il campionato di eccellenza e promozione vediamo dove come sono hanno impegnati il Valdiano e il Sassano Dopo le abbuffate natalizie il campionato di eccellenza Girone B riparte oggi pomeriggio con la super sfida tra Real Vico e Sant'Agnello due squadre che occupano rispettivamente la quarta e la seconda posizione in classifica e che ambiscono al salto di categoria il Sant'Agnello cercherà il colpo grosso al Massacuano per mettere pressione sul Gragnano capolista in caso di vittoria Russo e compagni si porterebbero in testa alla graduatoria in attesa della gara di domani tra Real Ponte Cagnano e Gragnano il programma gare poi continua domani mattina con la sfida delle 10.30 tra Sant'Omaso e Valdiano un match difficile per la compagine di Mister Tudisco che in terra irpina proverà a restituire il maltotto sulbito all'andata quando i ragazzi di Mister Silvestro si imposero di misura la termine di una partita condotta in difesa e concretizzando l'unica vera occasione da gol creata il Valdiano ha lavorato duramente in questi giorni la squadra è scesa in campo al mattino anche per creare una sorta di abitudine all'orario di gioco nel pomeriggio di domani infine l'arresto del programma con la Scaffatese impegnata in trasferta sul campo del Vissariano e il Gragnano appunto sul campo del Real Ponte Cagnano mentre la Mariglianese sarà ospite del Massa Lubrense a chiudere il programma campagna forza e coraggio Sant'Antonio Nocerina ed Eclanese Palmese nella promozione campana a Girone D invece soltanto due anticipi oggi pomeriggio in campo Real Aversana e Giffonese con i ragazzi di Mister Di Feo vogliosi di riacciuffare il primato del Girone e Temeraria Calpazio domani il resto del programma con le Bolitane in trasferta al mattino alle 11 alla Figlioria di Baronissi contro l'Olympic Salerno mentre nel pomeriggio tutte le altre sfide con Sassano Intercasali vera sfida salvezza una gara importante per i ragazzi di Mister Cammarano che necessitano di punti per continuare a navigare tranquillamente mentre l'Intercasali di Mister Pezzolano proverà ad iniziare la sua corsa verso la salvezza dopo i numerosi movimenti di mercato realizzati a dicembre non solo eccellenze e promozione in campo anche la prima e la seconda categoria il punto sulle compagini valdianese nel prossimo servizio così come per i massimi campionati regionali anche la prima e la seconda categoria campana ritornano in campo questo fine settimana nel Girone G di prima categoria soltanto un anticipo si disputa quest'oggi si tratta di Vignale Santa Cecilia con gli ospiti pronti a fare bottino pieno ed inserirsi a pieno titolo nella lotta per un posto ai playoff domani invece spazio a tutte le altre gare con in testa la super sfida tra Sporting Corvino e Real Palomonte due squadre con ambizioni di vertice ma divise da diversi punti in graduatoria nel Girone H invece tutto il programma gare si gioca questo pomeriggio eccezione fatta per la sfida tra Gregoriana e Vesole in programma domani le prime due della classe Vigor Castellabate e Cannalonga sono attese da sfide non impegnative contro Alfanese e Controne discorso diverso per il Montesano di mister Erio Giasi che sarà ospite delle Rayon impegno agevole anche per il Marina che riceve il Real Contursi Terme mentre il Pro Palinuro farà visita al Contursi Terme resta da capire se si giocherà la sfida tra Valloscalo e Cardile con i padroni di casa che non si sono presentati nelle ultime due uscite sia contro il Real Contursi Terme che contro il Marina e hanno perso la gara a tavolino rimediando due punti di penalizzazione riposa infine la Pollese nel campionato di seconda categoria Girone N tre gare oggi ed altrettante domani oggi in campo le sfide Buonabitacolo Monte San Giacomo Sporting Sala Consilina Magorno e Vibovilla Real San Giovannese domani invece le gare tra Certosa di Padula Casella Impitta di Sant'Arsenio Eofrano e San Vito Sapri Licusati riposa il ProAtena Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata Grazie a tutti